L'85mm lo conosciamo bene tutti, è una lunghezza focale perfetta per i ritratti, un'ottica che tuttavia è abbastanza particolare da avere nel nostro zaino e infatti vi devo confessare che io non ho mai avuto un 85mm a focale fissa. L'ho sempre utilizzato sul 24-105mm perché so che è la lunghezza focale ideale per i ritratti, però questa è la prima volta che mi avventuro sul terreno dell'85mm prime. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia da tanti anni e questa è la prima volta in vita mia che metto nello zaino un 85mm a focale fissa, quindi l'85mm vero. Oggi andremo a fare un rapidissimo unboxing e vi darò qualche impressione a caldo su quest'ottica che ovviamente ho già testato sui miei corpi macchina. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi subito a questo canale, come potete vedere sto lavorando per voi, infatti ho cambiato la mia lampadina ornamentale con una che è molto più caruccia, anche se poi sfoccata non si vede. Non so se riuscite a vederlo dentro, c'è una spirale di DNA fatta con delle lucine led, molto molto caruccia. Se vi iscrivete adesso siete sicuri di non perdervi gli aggiornamenti che andrò a fare di volta in volta nel mio studio, ma cominciamo subito con l'unboxing e come potete vedere qui abbiamo la bellissima scatola di Canon con l'85mm. Ora come voi probabilmente saprete se mi seguite da un po', io gli unboxing li faccio finti perché l'ho già tirata fuori giorni fa e quindi adesso rimetterla dentro e farvi la pantomima della plastichina mi sembra anche un po' stupido e irrispettoso. Sappiate solamente che questa è la solita scatola Canon per una lente EF, quindi si tratta delle ottiche vecchie, al suo interno c'erano tutte le plastichine, il manuale di istruzioni, la borsa da trasporto per la lente, che è bello che ci sia, sapete che io vado matto per le borsine da trasporto, però queste credo di non averle mai usate in vita mia e non vedo un lontano futuro in cui comincerò a farlo, perché comunque ho delle borse, degli zaini fotografici dove metto la mia roba, la borsina per trasportare il singolo obiettivo è una cosa che, ripeto, è bello che ci sia, però io non credo che la utilizzerò mai davvero, fatemi sapere in un commento se qualcuno di voi la usa o l'ha usata nella propria vita. Cose invece che ci interessano molto di più sono per esempio l'anello paraluce, questo è un accessorio che viene fornito con tutte le ottiche EF, con tutte le ottiche di serie L per la verità, ci sono delle EF che il paraluce non ce l'hanno, bisogna comprarselo a parte, io trovo sempre che sia una cosa carina avere questo accessorio incluso perché, ne ho parlato anche in un video recente e vi lascio l'incato da qualche parte, questo accessorio serve e essendo incluso dentro nel package può darci un vantaggio competitivo non indifferente e può aiutarci a creare delle immagini migliori andando a eliminare quelle che sono le luci parassita. In un paio di video fa vi avevo chiesto se c'erano luci parassita all'interno dei miei video, voglio farvi vedere una cosa, questa è una luce parassita generata da una cosa che c'è qui nel mio studio e basta fare un movimento minimo per andare a introdurre quel bagliore. Adesso 10 kudos per chi indovina di che cosa si tratta, non indovinerete mai. Comunque in questo caso il paraluce non servirebbe assolutamente a niente perché essendo posizionato in questo modo questa luce entrerebbe in pieno, però per una luce che provenisse per esempio da un'altra direzione come potrebbe essere la mia luce principale, un paraluce come questo andrebbe probabilmente a schermare efficacemente il frontale dell'obiettivo andando a evitare danni di questo tipo che sono facilmente evitabili, quindi sono un po' sciocchini. Andiamo a vedere come si presenta questo obiettivo e ve lo faccio vedere, come potete vedere si tratta di una bestia veramente gigante, ma sapete che forse è l'obiettivo più pesante che io abbia mai avuto. C'è da dire anche una cosa, l'ho messo sulla Canoneos 5D Mark II. Se avete visto la mia classifica dei corpi macchina che ho utilizzato di più nel corso dell'anno appena trascorso, vi lascio linkato anche quello in card, questa è una macchina che ho usato poco l'anno scorso e quindi gli ho messo sull'85 perché mi sono detto così la ritiro fuori dall'armadio e la uso, la sto usando e mi sta piacendo tantissimo. È una macchina che io ho adorato e continuo ad adorare e quindi con questo upgrade adesso la sto usando. Guardate, questo qui è il frontale del nostro amico, come potete vedere si tratta di una lente gigante, è gigante, non c'è altro modo per descriverla. Vi assicuro è la più pesante di tutto il mio set perché è più pesante del 24-70, è più pesante del 24-105, è decisamente più pesante. Il che a me piace, la sensazione di solidità e robustezza che mi restituisce un'ottica pesante come questa è assolutamente gradevole, non dà fastidio, a me personalmente non dà fastidio, certo a un utente più mingerlino può creare dei problemi perché è veramente pesante. La costruzione ovviamente è ottima perché si tratta di un'ottica di serie L, abbiamo la stabilizzazione, io la stabilizzazione la sto tenendo off per due motivi principalmente. Il primo motivo è che ho avuto un problema con un'altra ottica che è il 17-55mm, che è un'ottica PSC, non è di serie L, però mi si è guastato lo stabilizzatore, nel senso che si inceppa. Probabilmente era già difettato perché mi ha sempre fatto dei rumori un po' strani fin da quando l'ho acquistato, però ha funzionato egregiamente per anni, ho preso dieci anni fa, una roba del genere, quindi ha funzionato egregiamente per così tanti anni che non me ne sono mai preoccupato anche se faceva dei rumori brutti. Adesso vedo che i rumori sono molto peggiorati e quando attivo lo stabilizzatore sembra che si inceppi e quindi lo sto spegnendo e lo sto lasciando così. Fondamentalmente lo stabilizzatore a me non serve, io me ne sono reso conto proprio quando mi sono accorto che c'era il problema su quell'altra ottica perché stavo girando un video a mano libera e ho detto uso lo stabilizzatore che un po' mi aiuta. Ho avuto quel problema e ho spento lo stabilizzatore e mi sono reso conto che i video sono perfetti comunque perché un po' la mano, un po' l'esperienza, un po' l'abitudine, i video sono usciti bene lo stesso e quindi sto cercando di usarle meno possibile queste cose stabilizzatori vari. O usi un gimbal o una steadicam ma lo stabilizzatore sulla macchina sia sul sensore sia sull'ottica si aiutano in certi casi però nella maggior parte dei casi io sto cercando di non usarli perché se non posso farci affidamento, se è un bel momento mi abbandonano è una cosa che non posso tollerare allora preferisco star senza. Il secondo motivo è che mi sono trovato, vi faccio questo esempio che li spiega tutti, mi sono trovato ieri proprio, ieri nel momento in cui registro non nel momento in cui lo vedrete, mi sono trovato ieri a fare delle fotografie nello studio di un dentista. Non era particolarmente ben illuminato anzi a un mio cliente abituale io c'ero già stato e normalmente quando io scatto in quello studio scatto con le mie lenti da f2.8 o f4 e scatto col flash per avere un'esposizione decente. Con quest'ottica ho scattato senza flash, ho scattato all'apertura massima e mi sono reso conto che non avevo bisogno né del flash né dello stabilizzatore perché comunque stavo scattando a un 125esimo di secondo a iso 100 quindi avevo anche margine cioè potevo mettere tranquillamente iso 200 e scattare con dei tempi ancora più rapidi e a quel punto lo stabilizzatore non serve assolutamente a niente quindi secondo me su un'ottica come questa stabilizzatore a livello video a livello video può servire perché a livello video mi rendo conto che se stai facendo una carrellata soprattutto su un'ottica come un 85 che non è un grand'angolo quindi un po' di shake c'è sempre e a livello video sicuramente può servire ma a livello foto a meno che non stiamo facendo cose particolari e quindi stiamo scattando con l'ottica chiusa però a quel punto tanto varrebbe usare il 24 105 a 85 mm se lo stiamo usando a f8 questo la morte sua è usarlo a tutta apertura secondo me per avere lo sfondo sfocato e perché ho proprio visto che mi permette di fare cose che prima non potevo fare quindi ho scattato queste fotografie con dei tempi rapidi perché mi veniva mi veniva molto semplice c'era così così tanta luce per quest'ottica che non mi creava nessunissimo problema quindi dal punto di vista dell'apertura devo dire quest'ottica è fantastica ha uno sfocato che è la fine del mondo la nitidezza sul punto di messa fuoco è meravigliosa devo anche fare un appunto io ho sempre detto anche nel corso di altri video che quando si scatta con un'ottica come questa scattare a tutta apertura quindi 1.4 1.8 anche 1.2 è un rischio perché si rischia di mancare il fuoco continuo a pensarlo però diciamo che utilizzando la il mio parere un pochino si è spostato nel senso che a me è capitato di utilizzare il 50 mm f1.8 su apsc ok e l'ho usato anche sulla 5d mark 2 in realtà però dopo un po l'ho tolto perché non mi piaceva il 50 mm a me non piace il 50 mm quindi l'ho messo su apsc e ho sempre avuto problemi a mettere a fuoco dove volevo io nel senso che io mettevo a fuoco ricomponevo e spesso e volentieri l'immagine non veniva col fuoco dove l'avevo messo io devo dire che con questa combinazione questo non sta succedendo quindi è vero che è rischioso forse sono migliorato io però non vedo come visto che non faccio non ce l'avevo quest'ottica prima quindi non vedo come potrei essere migliorato senza dircela prima però secondo me è proprio un problema della psc ovvero con dei corpi macchina non non super pro diciamo che c'è il rischio che ti manchino il fuoco con un corpo macchina come questo almeno la mia esperienza recente perché ce l'ho da una settimana quello che ho potuto vedere è che dove metto a fuoco quello è io metto a fuoco in un punto ricompongo e quello è quindi non sto avendo nessunissimo problema certo su 80 foto magari 4 le canni 4 su 80 è una performance che francamente mi aspetterei da una mirrorless quindi diciamo che va benissimo così mi da tutto quello che volevo ho già pubblicato un video sull'acquisto di quest'ottica e non vi avevo detto qual era vi avevo solo raccontato cos'era successo ho fatto fatica a comprarla ho fatto fatica a comprarla perché a quanto pare canon non te le manda più in negozio le ottiche f perché vuole farti comprare soltanto le rf ora la ottica rf omologa di questa io sono andato a vedere costava il doppio quindi era un po seccante anche perché io volevo quest'ottica per metterla sulla 5d mark 2 perché questo corpo macchina lo stavo usando poco e questo mi dispiaceva allora ho detto prendiamo un'ottica nuova che tanto va bene su tutte le mie macchine quindi non ci perdo niente però io volevo metterla qui sopra e mi dava stidio questa cosa che dovevo dovevo comprare quello per mirrorless e non potevo più prendere questo quindi ho cercato in tutti i negozi finché ne ho trovato uno che ce l'aveva se volete vi lascio il video linkato da qualche parte potete andarvi a recuperare qual era il negozio e come si è svolta la cosa a questo punto io non mi dilungo troppo perché l'unboxing non l'abbiamo fatto come sempre l'ottica è questa io ve la faccio rivedere è veramente una bellezza ragazzi è veramente meravigliosa io sono ammirato sia dal design sia dalle dalla costruzione e soprattutto dalla resa di un'ottica come questa che è veramente strepitosa quindi io che sono sempre stato per le ottiche zoom nei prossimi giorni mesi settimane vi farò dei contenuti su quest'ottica per vedere come per forma per me e per cosa la si può impiegare ho già delle idee molto precise a riguardo ma ve ne parlerò approfonditamente nei prossimi capitoli per cui vi invito a iscrivervi così non ve li perdete lasciate anche un like a questo video perché mi sono svenato per prendere quest'ottica non l'ho fatto per fare il video su youtube l'ho fatto perché mi serviva davvero però con un piccolo like aiutate il canale a crescere e non di poco signori io vi ringrazio come sempre di aver passato un po del vostro tempo con me io l'85 mm vi diamo appuntamento al prossimo video